sdm news il primo tg degli sport outdoor di montagna a cura di maurizio torri ben ritrovati con sdm news il primo tg degli sport outdoor di montagna anche questa settimana siamo online con una puntata tutta da vivere a fil di cielo con sci e scarpette a trail running crazy ski alp tour 2017 la seconda edizione parte con un extreme bad alice in versione by night sarà il colle belunese sabato a ospitare l'extreme bad alice la bella gara di sci alpinismo originariamente tracciata lungo i pendi sopra miglia di segusino oltre a cambiare la località di svolgimento a causa della mancanza di neve sul monto cesen anche gli orari della manifestazione slittano al pomeriggio di sabato la partenza è prevista dal piazzale del nevegal alle 17 30 un'altra novità importante riguarda la modalità di partecipazione l'extreme bad alice tradizionalmente gara squadre sarà individuale il tracciato potrà subire qualche lieve modifica ma prevede sulla carta due salite fuori pista e due discese in pista per garantire la massima sicurezza dei concorrenti proprio perché alla gara partirà all'imbrunire oltre al tradizionale dotazione lo ski alp valdobbiadene richiede l'uso della lampada frontale per quanto riguarda il crisis ski alp tour dopo il rinvio della sci alpinistica pizzo tre signori per il momento rinviata data da destinarsi la extreme bad alice figura come prima tappa della seconda edizione la filosofia del circuito è di proporre gare di vero sci alpinismo in paesi dove questo sport è molto sentito per tradizione e per impegno di associazioni che da anni portano avanti prove tecniche e in ambiente in questo caso dopo lo slittamento la tappa inaugurale vista la situazione di questo strato inverno l'obiettivo è fare correre la gente quindi benvenga il piano b di sfruttare gli impianti del nevegal in versione by night la gran corsa per le tappe 2017 è già caccia al pettorale vi avevamo annunciato quattro appuntamenti da non perdere una nuova avventura che valeva la pena vivere da protagonisti beh sembra che in molti ci abbiano preso in parola andiamo per ordine da rej boufford ci fanno sapere che per il momento hanno confermato la loro presenza alla pierramenta 2017 i migliori atleti francesi italiani svizzeri e spagnoli sono inoltre accreditate squadre provenienti da america canada slovacchia bulgaria polonia grecia austria e altre nazioni al momento vi sono ben 210 squadre iscritte ai confini tra lombardia e trentino anche i ragazzi della damello ski team stanno lavorando bene 238 team iscritti 225 sono maschili e 13 donne e il mezzalama per il momento alla segreteria valdostana sono giunte 220 richieste di iscrizione di cui 170 complete con tre atleti lo staff di adriano favre sta esaminando le schede di ogni concorrente e a breve farà partire una parte di conferme nella prima decada di febbraio quali sono le date da segnarsi in agenda il tour de france dello sciarpinismo si correrà dall 8 all'11 marzo nel mese di aprile la damello ski ride è invece previsto per domenica 2 a chiudere alla grandissima il 22 aprile sarà invece il trofeo mezzalama come vi ricordiamo ogni volta save the date scaldagambe vincono luca magri e martina brambilla quasi 500 atleti si sono ritrovati a carvico per la seconda edizione dello scaldagambe winter trail gara di 16 chilometri con 500 metri di dislivello positivo nell'albo d'oro dell'evento invernale confezionata dalla carvico sky running entrano luca magri fresco acquisto della ricastello e la punta di diamante della carvico in rosa martina brambilla il bergamasco della val di scalve ha vinto in un'ora 05 20 il giovane alfiero e salomon andrea rotta invece chiuso in seconda posizione distanziato di soli 18 secondi a 34 secondi dal vincitore è invece giunto benedetto rotta terzo assoluto la corsa in rosa ha visto la favorita della vigilia martina brambilla vincere su francesca rusconi bronzo di giornata invece per maria eugenia rossi sky vertical affari e sport una seconda edizione tra importanti conferme e belle new entry sei gare per veri gourmet dell'holly up forti dei buoni risponsi raccolti nella prima edizione sky vertical affari e sport alza l'asticella proponendosi come il più bel circuito lombardo dedicato agli amanti della corsa in salita ad alzare il sipario sarà lunedì 17 aprile il balcavo a vertical a torre dei busi a metà maggio per l'esattezza domenica 14 sempre nelle chiesi sarà la volta del cornizzolo vertical il 2 giugno la prima new entry in bergamasca con l'orobie vertical e la mitica ascesa a rifugio coca merelli 30 giorni dopo il 2 luglio nel cuore della valsassina toccherà alla moggia ortavaccio segnare il giro di boa in vista della seconda prestigiosa new entry l'8 ottobre si correrà infatti la chiavenna lagunce sul tracciato dei record quella scalinata sul sentiero naturale dove sono state siglate le migliori prestazioni cronometriche mondiali su mille metri di dislivello positivo come lo scorso anno gran finale del circuito sarà la bobbio vertical con la sua carica di 400 in questo caso la data ancora da definirsi la scelta cadrà tra domenica 19 e 26 novembre per abbinare la competizione all'evento incontro gusti in quota by itb che garantirà una grandissima coreografia di pubblico all'ultima salita della stagione maggiori informazioni e programma sul sito www.valsassinatrainrunning.com anche per questa settimana è davvero tutto il nostro consiglio resta sempre lo stesso in cima all'ultima salita veloce i cambi e giù a bomba in discesa SDM News il primo tg degli sport outdoor di montagna a cura di Maurizio Torri